ciao a tutti bentornati benvenuti di nuovo in questo video di fanat go go reloaded come sapete precedentemente ho fatto un progetto da qualche anno fa con il mio amico andrea spadano che ho prodotto like i vivaldi che ho di fatto una nuova versione e lo trovate qui nel in questo canale il canale before prima nel canale before prima che questo progetto di musica dance techno ci sono altre tracce che io ho provato a rimixare e fra cui abbiamo no twist we are noise e until dance queste sono alcune tracce che sono appunto in questo progetto ve le rimixo ve la vorrei rimixare e riproporre qui su questo canale ciao a tutti grazie alla prossima ciao a tutti 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.